... Giovedì 12 agosto, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Sul canale 17 c'è l'informazione con la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno. Andiamo subito a vedere il santo, poi vediamo il tempo e i giornali. Cominciamo dal santo di oggi, Santa Giovanna Francesca, il sole è sorto alle 6.08, tramonterà le 20.18 e adesso andiamo a vedere velocemente il tempo. Partirei subito con questa prima pagina di trebimeteo.com con il cartello, il record europeo. Il caldo storico in Sicilia raggiunti 49 gradi centigradi, 48 per l'esattezza, una temperatura davvero incredibile. Il nuovo record europeo. Il fine settimana di ferragosto avremo un apice del caldo al centro nord, ma anche i primi temporali. Il tempo lo vediamo velocemente oggi su gran parte dell'Italia. Andiamo a vedere anche Siracusa a questo punto, ma non credo che ci sarà pioggia o nient'altro. Insomma, ecco, vedete il sole ovunque, così domani nella giornata di venerdì 13, a parte qualche pioggia temporale estivo sulle Alpi, per il resto sarà tempo bello e soleggiato. E allora andiamo subito a Numana. Andiamo dalla nostra Roberta Pincini, dai bagni Marino. Buongiorno, sorridente, come sempre ogni mattina. Allora, ci dai una sveglia che ci dà un po' anche, come dire, il buon umore. Vediamo un bel mare questa mattina. È fantastico, è cristallino, bellissima, l'acqua è pulitissima. È un peccato non farlo il bagno. E c'è qualcuno già che ne sta approfittando, mi pare, da qualche parte, ho visto prima. Giustamente, il mattino ha l'oro in bocca, come si dice, quindi sarebbe un peccato veramente non approfittarne. Allora, abbiamo visto le temperature a Siracusa, ieri il record storico, 48,8. Noi, diciamo, insomma, anche lì al mare si sta bene, adesso non è caldissimo. Vabbè, no, no, sicuro. È caldo, ma è una temperatura molto sopportabile. Allora, oggi ovviamente sarà una bella giornata e condizioni meteomarine ottime per passare una bella giornata al mare. I tuoi turisti, i tuoi ospiti sono felici, contenti. Da dove arrivano? Guarda, c'è un po' un fritto misto, come lo definisco io. Tanti veneti e emiliani parecchi, anche lombardi. Però tutto sommato è la parte nord-orientale dell'Italia. E i vicini? Gli Umbri? Sì, sì, ma forse loro preferiscono. Adesso sai, non c'è la moda della Puglia, quindi tanti vanno verso il sud. Ok. Bene, allora, intanto grazie per questo collegamento, ci vediamo domani mattina e buona giornata. Grazie. Buon mare, buon lavoro per te che dovrai lavorare. Anche a voi, buona giornata. Grazie Roberta, buona giornata. Allora, eventi a rischio per il pass, per il Green Pass. Questo è il titolo d'apertura del Corriere Adriatico di oggi, edizione di Pesaro. Il presidente delle Proloco, Bartocetti, dice siamo volontari. I controlli sono per noi un impegno gravoso. Intanto c'è un incontro con il prefetto, notte delle candele, tra vaccini e certificati, i partecipanti sono stati ligi. A centro pagina, Gambini, il sindaco di Urbino, dice un invaso, meglio due. Parliamo ovviamente di siccità e del fatto che serve acqua e serve soprattutto un piano a lungo termine per scongiurare, perché il problema della siccità non è solo di quest'anno, lo sarà anche per i prossimi anni. Dunque stoppa i prelievi nei fiumi, occorre qualche invaso per fare scorta d'acqua. Ma se fino adesso si è detto facciamone uno, Gambini rilancia e dice facciamone due, meglio di uno. Botte alla moglie, vietato avvicinarsi a lei e al loro figlio. Questa è la cronaca da Pesaro. Baia in pochi metri, diciclabile e raccolti, oltre 650 mozziconi di sigaretta. Poi incuria e degrado, troppi quartieri sono dimenticati. Questa è la pagina di Fano. Poi dopo le discoteche chiuse c'è la stretta di Ferragosto. La prefettura ha disposto dei controlli mirati. Nel Mirino ci sono le località balneari più frequentate. Sono quelle località che vengono prese d'assalto e che necessitano dunque di controlli in più. Poi niente da fare per il Fano Calcio. Invece l'Alma Juventus Fano adesso resta solo la Serie D. Il Carlino di Pesaro. A centro pagina la fotonotizia. Vaccini liberi senza prenotarsi. Riservate la fascia 12-16 anni. E ai tesserati delle federazioni sportive. Mentre è più facile ottenere le borse di studio. L'Università dalla Regione riceverà 2 milioni e 200 mila euro per aumentarle. queste borse di studio. Il Rettore di Urbino dice così. Gli studenti restano qui. Green Pass. Ristoranti in allarme. Calo degli incassi fino al 50%. I sindacati restano in trincea. La guerra della carta verde. E poi le altre notizie. Il Cone ha respinto il ricorso del Fano. Granata condannati alla Serie D. Per la pallavolo invece il Presidente della Megabox spiega il divorzio dal direttore sportivo Babbi. E ancora. Coppia sfiora la strage per sfuggire agli agenti. a Marotta. È successo all'autogrill Metauroest. E poi l'incidente in Viale Trieste a Pesaro. Cade con il monopattino e batte la testa. Tanta paura. Ma solo quella. Allora, le pagine interne. Pagina 2 del resto del Carlino. Vi segnalo queste due pagine. Dove si parla dell'effetto Green Pass. Calo dei coperti fino al 50%. E mettere le tavolate all'interno è un'impresa. Ho dovuto mandare via almeno 25, un 25% dei clienti, dice spiega di Remigio, titolare di Polo, Pasta e Pizza. Con in mano ancora il cellulare sempre attivo sulla app del Ministero. Le tavolate di amici soprattutto. Non tutti infatti hanno il Green Pass e quindi non posso sistemarli all'interno del locale. La nuova direttiva, quella non obbliga i titolari a chiedere i documenti al cliente, è solo una facoltà. Mandare via un cliente invece per un ristoratore comunque è dura. Il fatto è che tanti questo obbligo non lo vogliono rispettare. E comunque per ora siamo in estate. I locali rimediano con la parte esterna. Ma in inverno cosa faremo? E poi insomma tante altre considerazioni raccolte da Elisabetta Rossi sul carlino di questa mattina. Sempre su questo argomento. A pagina 3 invece Nicola Smasetti intervista alcuni, anche qui alcuni ristoratori, alcuni gestori di palestre. Se respingi clienti senza pass li perdi, ma i documenti non dobbiamo chiederli noi. Le acrobazie di alcuni titolari per non vedere diminuire gli incassi, alcune palestre invece risolvono il problema all'origine. Però è successo per esempio che una famiglia con Green Pass avesse un figlio di 13 anni senza e quindi sono dovuti star fuori. Quando pioverà si domandano che cosa succederà. Infatti il problema non è tanto adesso. Adesso ancora la situazione possiamo dire è tranquilla, ma al di là della scocciatura, ma per il resto è abbastanza tranquilla. Il problema arriverà quando ci sarà la pioggia, ci sarà il cattivo tempo, ci sarà il freddo. Allora lì davvero il gioco si farà duro e bisognerà vedere. Nel frattempo ovviamente speriamo che questa imposizione, questa tessera verde che non serva a niente perché non è nulla di scientifico, sapete. Su questo è inutile discuterne, non è una tessera che serve davvero per contenere il virus. Questo non serve, il Green Pass non ha nessuna utilità da questo punto di vista scientifico. Questo ormai è pacifico, lo sappiamo tutti. È una imposizione soltanto politica che serve per accelerare i vaccini, le vaccinazioni soprattutto. Per scappare, cambiamo argomento, per scappare agli agenti sfiorata una strage, una coppia già nota, vede la polizia in autogrill e fugge finendo addirittura in contromano in A14, quindi in autostrada. Poi torna indietro e picchia tutti e ovviamente sono scattate le manette. Si tratta di due persone all'interno di questa vettura, un marocchino di 35 anni, residente a Samignano sul Rubicone in provincia di Cesena e una giovane cubana di 23 anni senza fissa dimora. Tutto il racconto in questo articolo di Damiani sul Carlino. Marotta invece butta fuori accoltellato, spunta un debito di 70 euro. È stato convalidato l'arresto per questo 43enne di Marotta accusato di tentato omicidio per aver sferrato una coltellata alla schiena di un suo amico con il quale c'era un debito in ballo di 70 euro. I sindacati stanno con Ricci, andiamo sul Corriere Adriatico per pagina 9, per parlare dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord che non deve essere declassata né perdere il proprio status giuridico. Almeno così, secondo le richieste dei sindacati della sanità legate a CGL e CISL con funzione pubblica, che da una parte appunto stanno con Matteo Ricci, quindi difendono lo status di azienda ospedale. Rischiamo, dicono i sindacati, di perdere alcuni reparti di specialistica come la neurochirurgia. Sotto invece Ruggeri dei Cinque Stelle, Acquaroli non cada nella trappola, case bruciate e muraglia, stessi tempi. Interviene Marta Ruggeri dei Cinque Stelle sulla questione del sito dove costruire questo ospedale. Invece sulla questione della siccità, oggi c'è questo intervento di Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, che dice che solo un invaso non basta, ne servono almeno due. Il sindaco di Urbino è tra i primi a rispondere a marche multiservizi, certe scelte vengono dal coraggio, se manca questo coraggio è inutile fare gli amministratori. Marossi, il consigliere regionale dei civici, annuncia già battaglia da marche multiservizi delle ingerenze inaccettabili, pronti a ricorrere alla Corte dei Conti. Da Fano, invece, ultima chance per i lecci secolari. Parliamo di Piazza Marcolini e Piazza Andrea Costa. Sono due piazette che stanno all'interno del centro storico che, nelle intenzioni del Comune di Fano, sono oggetto di un restyling, di una sistemazione radicale, non una giustatina. Si tratta di rifare queste due piazze in modo deciso. Lì ci sono però, insistono, degli alberi, degli alberi in questo caso anche secolari, come vedete nella fotografia. Qui c'è Barbara Brunori con il professor Salvitano in Piazza Marcolini e l'altra, invece, qua a fianco, è Piazza Andrea Costa, vicino al mercato del pesce. Qui ci sono degli alberi e l'esperto, Salvitano, mette in guardia dai tagli degli alberi. E anche qui bisogna pensare, fare una scelta, chiaramente, se si può risparmiare meglio, ma se non si può, amen. Riaprire il museo della Via Flaminia, ritorno al futuro grazie al digitale. Questa è la pagina di Fano, invece, del Corriere Adriatico. È un investimento da 40 mila euro nell'ex chiese di San Michele. Seri dice, valorizziamo, è stato valorizzato il patrimonio storico. Ieri vi abbiamo fatto vedere anche un servizio su questo museo che tratta, appunto, questa via, che è la Via Flaminia. Ed è un progetto bello, un museo bello, che si può visitare venendo, appunto, a Fano. Sulla vasca di prima pioggia, invece, in azione, quella che dovrebbe preservare le acque dell'Arzilla, siamo sempre nel tratto di spiaggia di Fano. Vasca di prima pioggia in azione, protetto il mare, il meccanismo è entrato in funzione due volte. e Aset parla di inquinamento causato dagli scarichi a monte e quindi il suo lavoro, la vasca, l'ha compiuto, l'ha fatto, l'ha fatto anche bene. E quindi se ci sono ancora degli sforamenti, se Goletta Verde ancora mette il bollino rosso all'Arzilla, è perché, evidentemente, ci sono degli inquinamenti che arrivano a monte e non c'entra niente, anche perché quella è una vasca, non è un depuratore, quindi... Comunque, ci sono tutte le argomentazioni su questa diatriba, su chi dice che non funziona, che è sul Corriere Adriatico di oggi. Corriere che poi, in una notizia in breve, pubblica anche una foto con l'ultimo saluto ad Alessandro Oliva, di 31 anni, residente a Rusciano di Fano, che è morto a Genga dopo essere precipitato per oltre 80 metri durante una escursione. Ieri la famiglia, i parenti, gli amici hanno dato l'ultimo saluto appunto a questo giovane. Qui vedete la fotografia. La pagina della Valle del Cesano, invece, la Movida, alla stretta di Ferragosto. In Prefettura si è riunito l'apposito comitato per predisporre un fine settimana all'insegna dei controlli. Il giro di vite si è già visto con la chiusura del MIU e della Baia Imperiale in sole 48 ore. Proseguono le indagini ancora sulla Maxi Rissa. Convalidato l'arresto per il tentato omicidio, conseguenza di un litigio degenerato. Poi c'è una notizia, sempre sulla pagina del Corriere, di Cronaca, con un'auto che si ribalta sulla statale. Paura per un'anziana coppia. Vedete qui la fotografia di questo mezzo che si è ribaltato. E poi sotto Enrico Ruggeri, il cantautore. Ruggeri che torna nel buon ritiro di Marotta. Come ogni estate il cantante si riposa per qualche giorno. E adesso la pagina di Sinigaglia. Con, dal resto del Carlino, con la notizia, buona notizia, degli hotel che sono tutti pieni in questi giorni. È un agosto addirittura da pre-covid, quindi non si vedeva così da prima dell'inizio della pandemia. Marco Manfredi di Federale Alberghi conferma che le camere sono introvabili fino al 22 di agosto. A settembre speriamo invece nei turisti stranieri. Poi Povia, il cantautore, Povia, frasi antisemite, annullato il concerto. Il PD attacca il comune, ora fanno lo scaricabarile, ma non si erano preoccupati della situazione. Le polemiche, quindi, nei confronti di questo cantante non si placano. Giocare a calcio con gli amici in mare, sempre da Sinigaglia. Così Job ha realizzato il suo sogno di Luca, gara di solidarietà per il piccolo turista disabile. Lo vedete qui nella fotografia. Ha potuto utilizzare una sedia per andare in acqua. E questa è la bella notizia di questo sogno di Luca, di giocare a calcio, che si avvera in vacanza. Questo ragazzino che ha 11 anni, che non può camminare. E gli amici del mare, insieme ai bagnini, gli hanno fatto provare Job. Una sedia speciale, che appunto serve per entrare in acqua. Ma anche il radiologo, sempre da Sinigaglia, stoppa la TAC. Prenotazioni sospese, il comitato per la difesa dell'ospedale parla di carenza di organico. Poi impianti di depurazione dell'aria nelle scuole. Dalla regione arrivano 100 mila euro per l'installazione nelle primarie rodari e puccini. Ma questi soldi per l'aria nelle classi, nelle aule scolastiche, sono arrivati, mi pare, un po' dappertutto nella nostra regione. Ennesimo autoscontro, invece, sulla bruciata. Sempre da Sinigaglia, giovane incinta portata all'ospedale, a ridosso della statale del Cesano, davanti al centro commerciale e maestrale, coinvolte in tutto quattro auto. E poi un'associazione adotta, 46 cani di tre castelli, l'impegno della LNDC, Animal Protection, per l'allevamento colpito da due pandemie. Poi due comunità in lacrime per Elide. Aveva 57 anni, era di Corinaldo e viveva nella frazione di Vallone. Lo sport, invece, con la notizia che il Fano dovrà disputare il prossimo campionato nella Serie D. Sprofondo Granata, stavolta il Fano in D. Questo è il titolo del Carlino. Il Collegio di Garanzia del Cono, infatti, ha respinto il ricorso del club difeso dall'Avvocato Chiacchio, che ha dato battaglia e parla di vera ingiustizia. Sono emerse gravi disparità di trattamento tra le varie società e ci ha rimesso in tutto questo il Fano. Tempesta alma, insorge il Comune, è chiaro che siamo parte lesa. Durissima nota dell'amministrazione fanese. C'è stata la volontà manifesta di penalizzare sia la società che la città. E questo noi, come amministrazione, non lo accettiamo. E con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa. Grazie per averci seguito. Ci vediamo stasera alle 20.30 con l'Intellegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.